La sostituzione di un vecchio hard disk meccanico con un disco allo stato solido SSD è certamente uno dei metodi più efficaci per rendere più veloce un notebook. Se consideriamo anche il fatto che ultimamente i prezzi degli SSD sono molto più accessibili, potremmo azzardare affermando che sia un passo obbligato per dare nuova vita ai nostri vecchi computer portatili. Ma quali sono i reali benefici che possiamo ottenere grazie all'installazione di un SSD? Innanzitutto avremo una sensibile riduzione del tempo necessario per avviare il sistema operativo, così come del tempo di avvio di tutti i programmi. Inoltre otterremo un notevole miglioramento di tutte quelle attività che coinvolgono l'uso dell'hard disk, quello a dire editing audio e video, esecuzione di giochi, trasferimento file e così via. Inoltre gli SSD hanno anche il vantaggio di essere più robusti e silenziosi dei tradizionali dischi meccanici, e se ciò non bastasse hanno un consumo minore, cosa che andrà a favore dell'autonomia dei nostri laptop. Se hai deciso di installare un SSD nel tuo portatile, devi sapere che non sono necessarie chissà quali competenze tecniche. Tutto ciò che occorre è un po' di pazienza, un cacciavite è l'esecuzione di un semplicissimo programma di clonazione che si occuperà di fare una copia esatta del tuo vecchio disco, compresi sistema operativo, programmi, file e le impostazioni. Insomma, al termine della clonazione, il tuo SSD sarà la copia esatta del vecchio disco rigido e, cosa più importante, sarà immediatamente pronto all'uso. Prima di procedere con la guida, avrai ovviamente bisogno di un'unità SSD di dimensioni pari o superiore al tuo vecchio disco fisso. A tal proposito ti suggerisco di optare per un disco SSD di capacità superiori se noti che lo spazio di archiviazione del tuo vecchio disco si sta esaurendo. Supponendo che il tuo notebook, come nella maggior parte dei casi, sia equipaggiato con un'unità SATA da 2,5 pollici, dovrai acquistare un SSD della stessa dimensione e interfaccia, quindi SATA da 2,5 pollici. Tra i numerosi modelli in circolazione, uno dei più apprezzati per le sue prestazioni, è senza dubbio il Samsung 860 EVO. Inoltre, Samsung include il software Samsung Data Migration, un programma davvero semplice da usare che consente di clonare l'unità esistente sul nuovo SSD. In alternativa, potresti optare per il Crucial MX500. Anche in questo caso, l'azienda offre un software altrettanto semplice per la clonazione dell'unità, ovvero Acronis True Image. Avrai bisogno inoltre di un cavo di trasferimento dati da SATA a USB. Questo ti servirà per clonare il disco rigido esistente sul nuovo SSD usando la porta USB del tuo computer. In questo caso, non è necessario prestare particolari attenzioni durante l'acquisto, poiché tutti i cavi in commercio sono più o meno simili. Il Subrent USB 3.0 a SATA, ad esempio, potrebbe essere una buona scelta se considerate le recensioni su Amazon. Ma adesso procediamo con la guida vera e propria. Come anticipato, la prima operazione da fare è clonare il disco fisso per creare una copia esatta sul nuovo SSD. In tal modo non sarà necessario reinstallare il tutto. Al fine di rendere questa guida universale, ho scelto per questa operazione il programma Magrium Reflect in versione gratuita, poiché è molto intuitivo e funziona con tutte le marche di hard disk. Una volta installato il software, collega il disco SSD al notebook usando il cavo di trasferimento dati da SATA a USB. Avvia il software e metti il segno di spunta su tutte le partizioni del disco fisso da clonare. Clicca su Clone this disk, quindi su Select a disk to clone to per selezionare il disco SSD collegato. Dalle schermate che seguono clicca su Next, Next e infine su Finish. Arrivato a questo punto, clicca su OK per dare il via al processo di clonazione. Attendi con pazienza la fine del processo e presta attenzione a non usare il PC in questa fase o interrompere la procedura. Al termine della procedura di clonazione sarà possibile sostituire il disco fisso meccanico con la nuova unità SSD. Rimuovi la batteria del portatile e scollega l'alimentazione qualora fosse collegata. Rimuovi le viti presenti sulla parte inferiore del notebook per sollevare il case ed accedere all'hard disk. Se sei fortunato, il tuo laptop sarà dotato di un pratico sportellino con accesso diretto al vano del disco rigido, per cui l'operazione sarà molto più semplice. Se non sei sicuro su come operare, ti consiglio di cercare su Google una guida che spieghi come smontare il tuo modello di laptop. In ogni caso, presta attenzione durante la rimozione del case per non regare danni allo stesso. Una volta che avrai accesso all'hard disk, estrailo scollegando il cavo usata e rimuovi la staffa di montaggio avvitata al disco rigido. Installa la staffa appena smontata sul nuovo SSD e collegalo al notebook. Prima di rimontare il case, accendi il PC e assicurati che tutto sia esattamente come prima. Se tutto è andato per il verso giusto, spegni nuovamente il notebook e rimetti a posto le viti. Questo è quanto, non ti rimane che godarti le prestazioni del nuovo SSD. Grazie a tutti!